ciao a tutti ed eccoci in questa nuova stagione politica primo ospite di questa nuova stagione il sindaco di castellamonte pascuale mazza che non ha bisogno di presentazioni perché è già la seconda volta che ospite nella mia rubrica e la ringrazio grazie a te buongiorno buongiorno a tutti sindaco è passato un anno dalla sua riagliezione ci sono stati momenti alti di gioia dove si dove dove è riuscito a raggiungere determinati obiettivi e momenti di difficoltà di forti critiche da parte anche dell'opposizione ecco ci vuole parlare di questi momenti qual è stato il momento più bello il momento più basso di questo primo anno della sua amministrazione sì tanto grazie per avermi ospitato nella vostra nella vostra rubrica doma oggi è il compleanno appunto di questa nuova amministrazione momenti alti e momenti bassi ce ne sono stati sicuramente il momento più alto è stato quello della del grosso successo per la mostra della ceramica ma non solo noi abbiamo fatto tanti investimenti tanti lavori pubblici in questi mesi quindi diciamo che quello quelli soprattutto anche nel sociale abbiamo fatto una serie di iniziative abbiamo fatto una serie di investimenti importanti stiamo facendo dei progetti importanti e quindi i momenti alti per quello che mi riguarda per quello che ci riguarda sono tanti momenti bassi i momenti bassi sono sono i momenti che meno ti aspetti cioè quando intanto sicuramente il momento più basso è stato quello della della pandemia in generale cioè il momento del dispiacere dello sconforto l'aver dovuto lottare per per ottenere per cercare di plagiare un po per cercare di frenare un po la questa pandemia e lo abbiamo fatto come amministrazione assieme alle alle tante associazioni che ci hanno dato una mano l'altro ieri croce rossa ha riconosciuto a tutta una serie di cittadini di di aziende il coraggio la forza e anche la volontà di aver voluto dare dei contributi qualsiasi sia stato il contributo economico personale anche solo la pacca sulle spalle ecco quelli sono stati momenti di sconforto assieme alle critiche ricevute alle critiche ricevute ingiuste ma quelle credo se se le sia già portate se le sia già portate il vento nel senso che i cittadini hanno capito benissimo come sono andate le cose ecco durante l'ultima intervista noi ci siamo siamo incontrati ed è un momento molto difficile per lei invece adesso ci rincontriamo in un'area totalmente diversa abbiamo concluso la mostra della ceramica che forse uno dei fenomeni eventi culturali più importanti del canavese ha avuto un grande afflusso di gente e cosa c'è cosa ci dice come siamo come possibile che che in canavese riusciamo ad avere ancora una fiera una mostra che riesce a catalizzare così tante persone perché sono arrivate 10 mila persone alla mostra della ceramica sì abbiamo anche su questo abbiamo lavorato c'è un gruppo che ha lavorato dal curatore al ai dipendenti comunali all'assessore alla cultura e tutta l'amministrazione tutta la maggioranza e al sottoscritto abbiamo lavorato bene anche grazie ai tanti volontari non è banale pensare che abbiamo dovuto tenere aperta per quattro per tre settimane e quattro fine settimane una serie di punti espositivi questi punti espositivi sono stati tenuti aperti dai tanti volontari quindi anche a loro va il nostro grazie però ci sono state delle intuizioni c'è stata una progettazione ci abbiamo messo la faccia abbiamo progettato siamo andato siamo andati dagli imprenditori di castellamonte i quali hanno hanno aderito ci hanno sostenuti la rotonda il fatto di essere tornati in rotonda che a mio modo di vedere è uno dei motivi per cui c'è stato c'è stata l'inversione di tendenza sul sulla flusso assieme ad altri fattori che poi dirò perché non è siamo stati anche fortunati è però la rotonda è stata possibile perché abbiamo abbiamo avuto dei contributi dei contributi sostanziosi e quindi siamo riusciti ad allestirla come siamo riusciti ad allestire sotto i portici del comune a mettere quelle che sono quella che è veramente il nostro brand le stufe e quindi siamo riusciti a progettare siamo riusciti a fare squadra con la città e questo è stato il motivo per cui siamo stati premiati assieme a questo noi dobbiamo dire che c'è stata anche un po di fortuna la fortuna è dovuta al fatto che comunque molta gente aveva voglia di uscire la fortuna è dovuta anche al fatto forse che siano riusciti ad andare in televisioni in su su dei su giornali anche perché c'è forse ci sono meno iniziative e quindi ovviamente abbiamo avuto più spazi chiaramente molto ci abbiamo messo del nostro per esempio noi quest'anno abbiamo comperato le pubblicità nelle metropolitane di torino e di milano e il ritorno lo abbiamo avuto perché io ho chiesto ai volontari fate scrivere da dove arrivano alle persone mi interessa soprattutto quello ed ho notato una una bella affluenza dalla parte della lombardia per cui a mio modo di vedere insomma l'intuito dell'amministrazione la progettazione è un po di fortuna hanno fatto sì che 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 la cosa sia andata bene adesso bisogna continuare bisogna saper mantenere ecco volevo concentrare un attimo su quello che ha detto sulle poche iniziative che viene in cannavese no perché vediamo il cannavese come un'area industriale con un dormitorio ma si può fare turismo in cannavese si o no assolutamente sì la città di castellamonte sta lavorando sta lavorando ad una serie a tantissimi progetti con le tre terre cannavesane con unione montana valle sacra assieme ad altri soggetti al con la morena ovest stiamo progettando devo dire che forse lavamposto e soprattutto tre terre cannavesane con tre terre cannavesane abbiamo fatto tante tante cose assieme per cui diciamo che state distanti mogol ci sono state le serate che abbiamo fatto poi a castellamonte le serate fatte a san giorgio ecco queste noi dobbiamo cercare di rafforzare il rapporto degli tra le amministrazioni del territorio e contemporaneamente dobbiamo però fare in modo che gli operatori del nostro territorio siano più sensibili ecco al fatto che noi stiamo lavorando e stiamo cercando di spingere come tre terre abbiamo per esempio una serie di iniziative assieme a dei tour operator a circa 25 tour operator che stanno già proponendo stanno già proponendo le nostre i nostri territori come come mete turistiche quindi io sono fiducioso credo che nei prossimi anni il cannavese uscirà dal da quel terreno sconosciuto che oggi perché anche lì a me piace molto sondare il cannavese poco conosciuto e non ha nulla ma dico nulla da invidiare ai posti più belli che ci sono in piemonte e in italia per cui basta che ci mettiamo lavoriamo assieme lavoriamo assieme significa fare sinergia senza gelosie senza dire no da te sono venuto in due da me è venuto solo uno perché altrimenti non si va da nessuna parte ma se riusciamo a fare sinergia io sono convinto che nei prossimi anni ci aspetta una bella ripresa del turismo sotto due aspetti il turismo di prossimità quindi io credo che i torinesi torneranno a fare come facevano una volta cioè andare a santa elisabetta andare in val chiusella andare in valle orto e soana di estate piuttosto che un turismo più diciamo di oltre i confini provinciali che può cominciare già diventare un turismo di 2345 giorni anche perché noi non abbiamo questa concezione ma turismo cultura vuol dire c'è gente che si sposta che prende magari un'agenzia di navette poi magari paga il parcheggio poi magari va a mangiare in un ristorante la nostra città comunque si muove anche un business all'interno della propria cittadina adesso volevo concentrarmi sotto un altro aspetto che è quello dei prossimi anni del prossimo anno che la vostra amministrazione andrà ad affrontare quali sono gli obiettivi quali sono le nuove proposte cosa propone ai cittadini cosa promette i cittadini ma allora sicuramente dal punto di vista abbiamo un po di obiettivi intanto sui lavori pubblici noi quest'anno abbiamo abbiamo fatto davvero tantissime opere nelle scuole sulle strade ma abbiamo per dire l'altro giorno abbiamo inaugurato il campo da basket abbiamo fatto una serie di scelte a 360 gradi anche qua frutto di una di una programmazione di una programmazione è anche frutto del fatto che noi siamo riusciti a far fare una serie di opere dagli altri enti che ovviamente ringraziamo prima tra tutti città metropolitana che ha asfaltato tante strade che che e quindi qua andiamo già un po anche nel futuro che ha finanziato due rotonde quella di san antonio quella di spineto ma sono il frutto di una collaborazione non è che la città metropolitana diciamo vabbè andiamo lì a spendere i soldi a castellamonte no sono il frutto di una collaborazione di una progettazione intensa di una proprio di un interagire intenso tra i due enti come devo dire che abbiamo avuto delle buone interazioni con regione piemonte la quale ci ha finanziato il restauro delle facciate dei serramenti di palazzo botton che dovrebbero prendere il via inizio anno per cui ecco uno dei progetti futuri è il museo della ceramica il museo della ceramica che che io ripeto sempre non mi piace la parola museo dovremmo trovargli un altro nome però il museo della ceramica deve a tre aspetti fondamentali il primo è l'aspetto esterno e noi siamo partiti col censire tutto ciò che abbiamo all'esterno e che abbiamo tantissima roba cioè gli architetti l'architetto veglio con i suoi due collaboratori che hanno preparato già circa 700 schede non hanno ancora finito e stiamo lavorando stanno stanno continuando a produrre a produrre queste schede che identificano uno per uno i punti che possono essere attrattivi della città e delle frazioni per cui per cui quello è un tema importante il museo all'aperto il museo al chiuso tra poco partirà e questo è un altro dei progetti tra poco partiremo con il con anche la ricerca e come poi posizionare tutte le opere dentro chiaramente non partiremo noi ci saranno degli esperti che che lo faranno però la volontà dell'amministrazione quella e su questo anche lì un pezzettino lo abbiamo fatto noi avevamo questa collezione che donata da clizia delle ceramiche sonore dei fischietti che era nelle cantine e invece noi ci siamo messi lì abbiamo comprato le vetrinette le abbiamo esposte ed hanno hanno avuto hanno riscosso un grosso successo di pubblico queste le ceramiche sonore per cui ecco quello è un altro un altro punto a nostro favore la terza cosa che dobbiamo fare per attrarre soprattutto le scuole e che riguarda il museo è il sono i laboratori un museo della ceramica senza laboratori è un po zoppo quindi stiamo studiando anche questa cosa qua è chiaro che è un iter che non finisce domani è una roba che poi arrivare a parte che i musei a mio modo di vedere non hanno mai non hanno mai un punto finale ma sono sempre devono essere sempre insomma attivi devono devono cambiare non puoi offrire sempre sempre la stessa minestra puoi devi offrire lo stesso tema facendolo vedere da angolazioni diverse per cui noi il tema il museo della ceramica avrà una parte espositiva diciamo così fissa tra virgolette ma una parte sarà una parte dove si andranno a fare delle personali delle delle mostre cicliche ecco quindi questo è uno dei progetti che noi abbiamo investirete molto su questo museo ma allora la regione ci ha dato 550 mila euro noi abbiamo messo da parte circa 70 mila euro per rivedere un po gli impianti interni adesso andremo a cercare invece i soldi per gli allestimenti quindi vetrinette quindi tutte queste cose qua ecco vogliamo farlo per tempo in modo tale che quando si arriva alla fine dei lavori abbiamo già qualche qualche idea di quindi entra un polo culturale diciamo per la città e anche non solo per la città sì sì ecco c'è stata una polemica sulle scuole negli ultimi giorni con con l'opposizione per il pre e post post scuola ecco c'è già stata la risposta dell'assessore alla cultura vuole aggiungere qualcosa ma se c'è davvero poco da aggiungere nel senso che sono tutte questioni tecniche sono questioni nelle quali l'amministrazione comunale c'entra quasi nulla il fatto di dire vieni la vai davanti all'asilo a controllare perché ci sono assembramenti voglio dire state un po più distanti no non è una questione di vita o di morte ci si sta un po più distante si sta con la mascherina e io credo che non vi siano non vi sia nessun problema è evidente che che non sia facile per i genitori dover intanto aspettare perdere del tempo eccetera siamo vicini e tant'è che l'assessore lo ha anche detto sta anche cercando delle soluzioni però le soluzioni debbono prevedere debbono essere soluzioni che siano compatibili con le prescrizioni di legge altrimenti non si può fare altrimenti non va bene perché immaginiamo se a uno di questi bimbi se non fai bene le bolle se non prende il covid ma noi andiamo nelle grane fino 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 alla testa e non va bene non va bene perché poi io mi rendo conto che spesso i bimbi che devono fare la bolla a scuola viaggiano magari assieme nel pulmito nel pulmino però le regole sono regole e un'amministrazione non può infrangerle altrimenti finisce il mondo cambiamo un attimo argomento sulla viabilità avete stanziato dei fondi su progetti per rifare strade per fare vie soprattutto nelle frazioni vogliamo parlarne vuole vuole dirlo ai cittadini ma sì allora nelle frazioni in realtà anche qua abbiamo fatto intanto su sulle frazioni di campe muriaglio andremo a realizzare adesso credo sia stato già dato l'incarico a un progettista per sistemare appunto una strada a campo e per fare degli eventuali parcheggi a muriaglio nelle strade abbiamo investito 150 mila euro di asfalti ci rendiamo conto che non bastano perché andrebbero noi abbiamo fatto conosciamo benissimo tutti i problemi abbiamo fatto un censimento noi prima di partire abbiamo fatto un censimento e le decisioni quando uno mi dice mai fatto davanti a casa sua e non davanti a casa mia le decisioni non sono decisioni a simpatia sono decisioni tecniche che tra l'altro non prende la politica la politica da cioè deve trovare le finanze deve trovare le risorse deve dare i tempi ma non può decidere a casa tua o a casa mia lo deciderà se a casa tua ci sono tre buche davanti e a me ce ne sono due è evidente che aspetta prima te poi a me l'asfalto quindi quello poi conosciamo benissimo tutta la situazione ma per poter sistemare non benissimo ma in modo decoroso tutta la città servono almeno due milioni di euro di asfalti capisci che è una cosa improbabile ecco stiamo però molte cose le abbiamo fatte stiamo facendo altri progetti e stiamo soprattutto soprattutto lavorando con città metropolitana per continuare gli investimenti c'è una cosa sulle frazioni allora sulle frazioni noi abbiamo fatto e lo abbiamo fatto su tutte le frazioni un bel po di investimenti soprattutto come unione montana valle sacra lo abbiamo fatto nelle frazioni di castellamonte ovviamente lo facciamo anche negli altri cinque comuni del dell'unione montana stiamo facendo gli investimenti che derivano dai fondi dei piani di manutenzione ordinaria che erano fondi fermi parliamo di oltre due milioni di euro che sono stati bloccati che sono stati spesi a castellamonte abbiamo sistemato strade e fra e frane per diverse centinaia di migliaia di euro oggi stiamo progettando stiamo progettando altre altre cose di questo tipo io sono sono abbastanza convinto anche di 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 poter dire che magari il prossimo anno alcune cose ancora andremo a farle teniamo conto che è un anno sostanzialmente che noi siamo siamo veramente in sella all'amministrazione i tre anni precedenti sono state soprattutto frizioni eccetera quindi quando quando non c'è la serenità non si lavora bene quando c'è la serenità è evidente che si lavora bene poi ci sono le difficoltà ci si confronta delle volte i confronti sono anche duri però alla fine si decide e si va avanti siamo sereni il rapporto sia una squadra di governo è forte assolutamente sì assolutamente sì stiamo ripeto stiamo lavorando bene abbiamo sistemato alcune alcuni conti è chiaro che spiace quel milioncino di euro che avremmo potuto sfruttare facendo quella 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 revisione dei dei mutui che sarebbe costato poi alla fine 25 mila euro l'anno da quello che sembra alla fine non li pagherà neanche i comuni ma saranno pagati attraverso altre altri meccanismi per cui quel milioncino di euro serviva anche lì ci sono noi abbiamo in mente alcune cose parlo dell'ospedale vecchio parlo del della vecchia caserma dei carabinieri e abbiamo altri due o tre progettini però non lì ci sono veramente soprattutto sull'ospedale vecchio che sono botte di milioni e quindi stiamo però anche lì qual è il segreto può andarti bene o male ma devi avere sempre il progetto nel cassetto devi sempre avere il progetto nel cassetto allora noi questo per esempio per l'ospedale vecchio abbiamo già una bozza di progetto e abbiamo progetti sulle scuole ancora da perché le scuole hanno praticamente eravamo fermi con le schede l'anagrafe scolastica senza la quale non si può partecipare a nessun bando era ferma al 2010 noi l'abbiamo praticamente sistemata scadeva il 5 settembre questa questa cosa qua abbiamo sistemato già quasi tutte le scuole con l'anagrafe scolastica l'anagrafe scolastica ti dice ti dà la fotografia delle scuole le scuole di Castellamonte non erano messe bene e noi quest'anno questa estate abbiamo comunque efficientamento energetico alla media Cresto messa a norma dei solai alla media Cresto sono stati consegnati i lavori l'altro giorno altri 140 mila euro abbiamo messo a norma i solai alla materna Musso stiamo terminando i lavori di dell'antincendio alle scuole elementari del capoluogo possiamo dire che per i prossimi anni sotto la sua amministrazione assisteremo a un rinnovamento delle strutture scolastiche e sì stiamo continuando a lavorare a quello rinnovamento io sono e io sono contro il fatto di spostare le scuole fuori dal centro abitato perché le scuole come oggi sono dislocate sono la vita della città di Castellamonte sono la vita del centro cittadino sarebbe più bello poterle mettere fuori però intanto ci vogliono i soldi e qua parliamo veramente di magari parliamo se uno decidesse di fare un polo scolastico qua parliamo di decine di milioni di euro mentre così come sono oggi io le trovo trovo bello che poi le famiglie vadano dopo aver portato i bimbi all'asilo alla scuola elementare o anche alle medie vadano a fare spesa in centro e poi e poi vanno a casa ecco io lo trovo bello per cui cercheremo di continuare ad investire sulla messa a norma delle delle nostre scuole mi fermo un attimo sul tema giovani no perché in cannavese abbiamo abbiamo questo problema che mancano luoghi di incontro bisogna dire che a Castellamonte i luoghi di incontro per i giovani e lo sport perché abbiamo molti campetti non palazzine quindi i giovani a Castellamonte si incontrano per fare sport per giocare a calcetto per giocare a pallavolo quindi questa è una bellissima cosa volevo chiederle se nel suo programma nei prossimi nei prossimi anni c'è questa tematica aumentare il punto di punti di incontro tra i giovani permettere organizzare magari qualche 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 fiera qualche serata in più anche per per i giovani perché abbiamo abbiamo visto soprattutto quest'estate che per i giovani cannavese non c'è nulla infatti molti si spostano sempre più a torino sì è un tema io una figlia di 18 anni che fortunatamente non va via tanto quindi va va con le amiche ma sta per qua però è un tema importante quello sì oltre i campi abbiamo rinnovo l'invito ai giovani di venire anche a giocare a basket all'aperto domenica hanno giocato anche sotto l'acqua ci sono proprio divertiti alla grande quindi è andata benissimo no noi ci sono poi una serie per per esempio morena ovest per esempio lo stesso tre terre cannavesane per esempio stiamo lavorando a un a un a una direttrice caluso castellamonte quindi li porta del parco nazionale gran paradiso lungo il canale lungo il canale quindi sullo sport e poi stiamo lavorando a tutta una serie di dire di ricezione di ricettività di tipo autoristico su nella nelle valli e quindi sullo sport ecco giustamente siamo siamo messi bene il progetto dell'ospedale è chiaro che se io riuscissi a se riuscissi non io se la nostra amministrazione riuscisse a trovare un po di fondi all'interno di quella cosa lì ci sarebbe anche lo spazio per per i giovani per un centro di aggregazione per cercando di far andare d'accordo anche magari giovani e anziani io un'idea ce l'ho però ci vanno servono tanti fondi servono tanti soldi noi questo progetto preliminare che abbiamo fatto sul vecchio ospedale è una roba da quattro milioni di euro e quindi non è una cosa di facile di facile realizzazione devo dire che c'è un altro aspetto anche che l'aspetto dei giovani che è a castellamonte su questo siamo abbastanza ben messi giovani giovanissimi soprattutto poi magari man mano che crescono cominciano a diminuire però sulla cultura eccetera ci sono ci sono delle buone iniziative in città quindi da quel punto di vista stiamo cercando di potenziare anche tutta una serie di iniziative tanto per dirti il teatro martinetti adesso c'è stato il lockdown va bene ma il teatro martinetti è stato sempre pieno da noi lo abbiamo usato praticamente tutti i giorni lo usavamo e mi auguro che finisca presto la pandemia per tornare ad usarlo tutti i giorni di nuovo con l'università della terza età che guarda ai meno giovani alla per esempio le poesie in dialetto peimontese che facevano i bimbi piuttosto che altre iniziative piuttosto che il corso di agricoltura al quale partecipavano tanti giovani e io con un paio di questi ragazzi alla fine mi hanno detto ma sai sindaco io alla fine penso che andrò alla mi iscriverò ad agraria perché mi piace questo mondo e lì lì vabbè l'agricoltura e l'allevamento che è una parte importante della città di castellamonte ci si può sbizzarrire come si vuole ecco noi abbiamo una parte della parte pianeggiante ci sono molti allevamenti e quindi c'è molta produzione su quello anche influirà il turismo a mio modo di vedere cioè se la gente viene qua alla fine ti compra anche la toma ti compra anche noi abbiamo tanta tanta produzione di eccellenza per esempio sul miele quindi anche sull'agricoltura insomma sono tutte cose che sono unite tra di loro e cerchiamo di sfruttarle Nell'ultimo periodo è scoppiata la polemica pro green pass contro green pass ecco soprattutto tra politici intellettuali soprattutto a livello nazionale volevo chiederle se anche a livello locale se ha sentito ristoratori se ha sentito gente che le ha chiesto le ha fatto domande riguardo questo argomento si è lamentata ci sono casi di gente che ancora contra il vaccino che beh sì qualcuno c'è evidente che c'è io devo dire la verità gestori diciamo così di ristoranti di bar eccetera non ne ho la più palida idea se se ce ne sia qualcuno che non l'ha fatto o se siano in tanti che non hanno fatto il vaccino non è per effetto di questa cosa però io penso che sia una questione di libertà di libertà soprattutto per gli altri cioè io di libertà per gli altri e poi io ho sempre detto ma un padre di famiglia che non che non si vaccina fa un danno ai figli perché perché io preferisco che ho preferito che si sperimentasse sulla mia persona anziché sulla persona di mia figlia che ha fatto il vaccino quando è arrivato il suo turno dopo 4 5 mesi abbiamo visto che a me è andata bene cioè è un'altra cosa no è un'altra cosa quindi io credo che sia anche una questione altruistica non si qualcuno c'è ma non vedo tantissima gente che sia contro c'è tantissima gente invece che molto rigorosa ancora nel rispettare le regole e questo a me fa piacere poi ci sono di ci sono quelli lì che le regole non le rispettano anche lì come abbiamo già detto tante volte sempre nei soliti posti sempre i soliti eccetera però io ritengo che sia una questione di libertà l'uso del vaccino e soprattutto anche il green pass perché sindaco abbiamo toccato tantissimi temi volevo chiederle se ha un appello da fare ai cittadini se vuole dire qualcosa ai cittadini un obiettivo che si prefigge che una promessa qualcosa per il prossimo anno sì l'obiettivo è quello di intanto di continuare ad essere seri e a rispettare le regole su questa su quello che sta capitando per quanto riguarda il covid per quanto riguarda la città di Castellamonte l'appello è sempre lo stesso siamo uniti lavoriamo assieme perché assieme si raggiungono tanti obiettivi si può andare lontano questo vale per Castellamonte per i miei concittadini vale anche per i miei colleghi amministratori del canavese e per tutti i cittadini del canavese io credo che assieme possiamo fare grandi cose sindaco grazie mille è stata un'intervista molto piacevole grazie grazie a voi grazie per avermi ospitato e buona serata ci vediamo alla prossima puntata di rock politics grazie a tutti